Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per l'ultima parte di dicembre, andremo a vedere un attimino quali sono le energie generali. Vi ricordo comunque, wow la luna è uscita giusto per, che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo vi consiglio anche di andare ad ascoltare il vostro ascendente e segno lunare. Bene. Mostrami, gemelli, energie generali e qualcosa sì, ok, il carro. Cari amici dei gemelli, qualcuno sta per prendere una scelta, una direzione, qualcuno sta per andare avanti in un determinato percorso di vita, in una situazione o all'interno di una relazione. Andiamo a vedere più nello specifico perché c'è il carro qui per voi. Il carro mi parla anche di quello che è il prendere in mano le redini della propria vita, no? Quello che vuol dire decidere per sé, dare una direzione. Andiamo a vedere. Ok. Abbiamo un Papa al contrario, un Fante di Coppa al contrario, una Regina di Bassoni al contrario. Allora, questo Papa al contrario, il mazzo è al dritto, ve lo giuro. Tutti al contrario, però. Wow. Potente questa lettura, amici dei gemelli. Allora, abbiamo un Papa al contrario, un Fante di Coppa al contrario, una Regina di Bassoni al contrario. Abbiamo un Fante di Spade al contrario, un 9 di Spade al contrario, un Asso di Spade e un Re di Pentacoli. Allora, andiamo più nello specifico a vedere perché sono tutte al contrario così. Non vuol dire che siano negative, anzi, qualcuna assume anche proprio un significato positivo. Con il Papa, il Papa mi parla di quello che è una necessità, in questo caso, di fare un certo tipo di salto, che è un po' l'energia di cui ci parla il carro, no? Questo andare avanti. Con questo Papa sento che, per certi versi, non c'è questo riconoscimento che potrebbe essere delle vostre emozioni o un riconoscimento che arriva comunque dall'esterno. Abbiamo anche questo Fante di Coppa. Fante di Coppa normalmente mi parla di quello che è un'energia giovane, anche un pochettino immatura, se vogliamo, immatura a livello emotivo. E sento che per qualcuno si vorrebbe, diciamo così, riprendere un po' in mano le redini della propria vita, ma c'è un qualche tipo di personaggio, piuttosto che una sorta di energia di controllo, di costrizione, anche un po' di distrazione, forse alle volte. Non si è completamente focalizzati su quello che è il percorso di cui vi parla il carro. Sento che, per certi versi, però, ci sarà attraverso quello che potrebbe essere un approfondimento della vostra coscienza. Il Fante di Spade ha anche un libro, no? Quindi mi parla anche un po' di quello che è il documentarsi, lo studiare, il conoscere, l'osservare. Parla anche un po' di quello che è il controllo, ma sento che è un qualche cosa, comunque questo tipo di energia, questo tipo di atteggiamento, che vi aiuterà a lasciarvi indietro quelli che sono i pensieri, le preoccupazioni, le ansie di cui mi parla il Nove di Spade. Sento che comunque abbiamo poi alla fine, insomma, una sorta di chiarezza mentale, un nuovo inizio, un nuovo modo di vedere le cose, di vedere la vita. E con questo re di pentacoli alla fine sento che comunque appunto questo lavoro, diciamo, dà una sorta di chiarezza mentale che porta a quello che è una sicurezza maggiore. Per qualcuno questo re di pentacoli potrebbe fare riferimento a quello che è una persona che potenzialmente potrebbe darvi un aiuto, potrebbe essere comunque una figura tipo uno psicologo, un medico, un terapeuta, una persona, diciamo, legato alla vostra famiglia, al vostro cerchio di amicizia, insomma, comunque una persona con la quale è molto facile parlare ed ha una certa saggezza, insomma. Potrebbe essere, se fosse una stesa, diciamo, riferita all'amore, potrebbe essere la vostra persona di interesse o una nuova persona in arrivo. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo papà al contrario, per piacere, grazie. Allora, il papà al contrario è spiegato da un otto di pentacoli al contrario, da un tre di coppe e da un otto di spade. Sento che qualcuno, per certi versi, si fa come dei sensi di colpa per non essersi dedicato pienamente a quello che era questo tipo di situazione, di relazione o di progetto, insomma. Ci sono, con questo otto di spade, dei pensieri comunque autoboicottanti, sono pensieri circolari, quelli un po' tossici, diciamo, no? Per qualcuno sento che potrebbe essere stato il mancare ad un incontro, ok? E questo ha fatto comunque in modo che si creassero dei sensi di colpa dentro di voi. Allora, il fante di coppe è spiegato da un dieci di spade al contrario e da un cinque di coppe al contrario. Sento molto forte la sofferenza che c'è di qualcuno, ok? Perché queste sono due carte che mi parlano comunque di quello che è una sofferenza. Potrebbe proprio essere una perdita di fiducia, potrebbe essere una perdita a livello emotivo, perché magari è una situazione che, insomma, ha creato, oltre che ai pensieri, anche, appunto, diciamo, tra virgolette, danni a livello emotivo. Per qualcuno potrebbe essere riferito al fatto che questo fante di coppe sia una persona e non solo un'energia. Una persona, appunto, di tipo immaturo, come dico sempre. I fanti sono giovani, normalmente esprimono queste energie un po' così acerbe, no? Che per certi versi vi darebbero la luna, insomma, però poi alla fine non hanno forse tanto le capacità per farlo, o non si rendono conto bene delle cose che dicono, delle aspettative che creano. E quindi io sento che potrebbe esserci questa sorta di dolore, ecco. Per qualcuno potrebbe proprio dire invece che queste sorte di pensieri, o di sofferenza, insomma, si stia comunque iniziando ad uscire da questo processo di senso di colpa. Perché sento che per molti è proprio un senso di colpa. Qui abbiamo una carta che mi parla dei pensieri circolari, dei pensieri tossici. Quindi sento molto che è una questione del se avessi fatto così, se mi fossi comportato o comportato in un altro modo. Cose per lo stile, insomma. La regina di bastoni al contrario è spiegata da un sei di bastoni e da un fante di bastoni al contrario. Potrebbe essere la stessa energia, perché qui abbiamo due fanti, ok. Però qui sento che c'è qualcuno che ha perso la stima proprio in se stesso, ha perso proprio quello che è il potere personale con questa regina di bastoni al contrario. Sento che per qualcuno è come se si vedesse la riuscita della propria vita solo legati a questa persona o a questo tipo di energia, insomma. Andiamo a vedere, avete tre fanti fino adesso, eh. Allora, andiamo a vedere ancora una carta per il fante, grazie. Il fante di spada al contrario è spiegato da un due di bastoni e da un asso di coppe. Qualcuno probabilmente avrebbe voglia di fare un salto in avanti, no? L'asso di coppe mi parla di quello che è un nuovo inizio, di quello che è un'offerta, una proposta. Il due di bastoni è qualcuno che sta pensando ad un progetto, sta macchinando, diciamo, un qualche cosa. Ma sento che questa energia è davvero distratta, davvero... Sento che c'è un qualche tipo di distrazione, ecco. Che è più una distrazione legata al carattere della persona che non ha un altro personaggio involucrato. Coinvolto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Raccolgo la carta, le carte. Allora, il nove di spade al contrario è spiegato da un asso di denari e dalla carta della forza. Quindi sento che qui qualcuno si sta proprio sbloccando, sta proprio facendo quello che è una sorta di lavoro, perché abbiamo di nuovo un altro asso. Quindi la seconda parte della lettura... Qua avete tre fanti, ok? Tre paggi. E qui avete tre assi. Quindi io sento che c'è un qualche cosa che deve cominciare o ricominciare. Come vi dicevo prima, tutti questi pensieri, queste preoccupazioni, comunque verranno lasciati indietro, ok? L'asso di pentacoli mi parla di quello che è una nuova via, un nuovo percorso. Ed è un qualche cosa comunque di stabile. È come se ritrovaste la forza di ricominciare. È come se la forza qui, in questo caso, la forza parla di quello che è il domare o dominare l'istinto, quindi quello che è la reazione d'impulso, diciamo, con quello che è la dolcezza, la ragione. Quindi in un certo senso sento che qualcuno ha bisogno di addolcersi un po' verso se stesso per cercare giustamente questa nuova strada di cui mi parla il carro, ok? Andiamo avanti, vediamo perché c'è l'asso di spade, per piacere, grazie. Abbiamo un set di bastoni al contrario. Sì, qui c'è qualcuno che deve proprio far luce su se stesso. E un quattro di spade, di bastoni, scusate, al contrario. Probabilmente con questo asso di spade state un pochettino rivalutando quello che sono le cose che vi vengono dette, che vi sono state dette, ok? Le influenze esterne, diciamo, e quello che per voi era l'idea di un'unione felice. E' come se questa partnership, perché così sembra, ripeto, che sia una situazione di lavoro o d'amore o una relazione di tipo familiare è lo stesso, sento che comunque c'è come una rivalutazione della scena, insomma, questa sorta di controllo, di, in un certo senso, anche autoanalisi, mi verrebbe da dire, no? Sento che comunque porterà quelli che sono i loro frutti. Andiamo a vedere perché è il re di denari. Il re di denari è spiegato dalla temperanza al contrario e dal mondo al contrario. Per qualcuno potrebbe essere che questo re di pentacoli sia un personaggio che, in un certo senso, impedisca di andare avanti nel proprio percorso, ok? Per qualcun altro, invece, può essere che è un personaggio che aiuta a proprio trovare un equilibrio, quindi a girare, diciamo, un po' questa temperanza e a chiudere quello che è il vecchio ciclo dentro il quale eravate per iniziare un nuovo ciclo, ok? Sento che però le reddini della vostra vita sono in mano a voi. Cioè, tutto questo percorso di lavoro, della sofferenza, di uscire comunque da quello che è questo momento di dubbio, di sconforto, insomma, è compito vostro. Avete tre assi, uno, due, tre. Quindi voglio dire, qualche cosa comincia di nuovo, qualche cosa si sta sviluppando, qualche cosa sta prendendo piede in un altro modo, ok? Andiamo a vedere che cosa hanno le fatine da dirvi. Perché comunque io sento, sento che qualcuno, per certi versi, è già fuori da quel tipo di sofferenza, ha già elaborato. Deve solo, diciamo così, esternarlo. Andiamo a vedere le fatine che cosa hanno da dirvi. Una carta per gli amici dei gemelli, per piacere, grazie. Abbiamo ispirazione. La carta dice, siate pronti, quanto prima riceverete l'ispirazione. Può venire da qualsiasi lato, diciamo, e l'ispirazione ti può parlare in qualsiasi momento. Quindi un po' l'invito della carta è di rimanere, diciamo così, ricettivi, aperti a quelli che sono i messaggi, ok? Guardate i dettagli, le piccole cose, guardate tra le righe, ecco, mi vorrebbe da dirvi. Andiamo a vedere i tarocchi di Osho, invece, che cosa hanno da dirvi, cari amici dei gemelli. Comunque io non la vedo male, anzi, probabilmente vi state schiarendo le idee per quello che riguarda questa situazione, insomma, o una relazione, e state cercando di capire, come dice il carro, come andare avanti, come è giusto andare avanti. State un pochino prendendo in mano le redini della situazione, insomma. Ok, abbiamo la guida, stress, esaurimento, creatività e fioritura. Wow, wow, fioritura, carta bellissima. Ok, allora, la guida. La guida mi parla di quello che è il cercare, appunto, una guida, ma qui in questo caso si parla di quello che è la guida interiore. Quindi cercate quello che è dentro di voi, è veramente importante, cercate di capire che cosa vi fa stare così male, quali sono i pensieri, insomma, che sarebbe meglio magari lasciare andare, perché tutto questo provoca stress, come vi dice la carta. Ed è ora un attimino di lasciare andare lo stress, è ora di lasciare andare le cose che, insomma, il flusso della vita segue il suo percorso. C'è comunque quello che è una fase di esaurimento, perché giustamente tutto questo pensare, tutto questo lambiccarsi il cervello, comunque crea una sorta di esaurimento proprio a livello energetico. Sento molto che per qualcuno si è in una fase, diciamo, difensiva, ma questo, il fatto di proteggervi anche un po', vi dà la possibilità di iniziare quello che è il percorso verso l'espansione, quindi di diventare creativi, di diventare abbondanti, di fiorire. Quindi anche le carte di Osho vi dicono, tolto un attimino, diciamo, questa sorta di confusione mentale, tolta questa fonte di esaurimento, di forze, si arriva comunque a quello che è l'abbondanza, a quello che è un compimento positivo, diciamo, della situazione in cui siete, si arriva appunto a quello che è la fioritura. Bellissime carte, cari amici dei gemelli. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle Fatine. Andiamo a vedere che messaggio hanno per voi. Ok, una carta è uscita, due, ancora uno. E tre. E quattro. Allora, abbiamo riconciliazione. Wow! Quindi per qualcuno potrebbe essere che ci sia una riconciliazione dopo quello che è un periodo comunque, insomma, di dubbi, diciamo. Speranza. Vi dà vicino a un telefono, quindi abbiate speranza sul fatto che vi richiami, che vi ritelefoni. Prosperità, e qui mi fa venire in mente la carta della creatività che corrisponde all'imperatrice, quindi mi parla di abbondanza. E poi abbiamo coerenza, ok? Quindi cercate di essere coerenti tra la vostra mente e il vostro cuore, quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Bene, cari amici dei gemelli, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che in qualche modo la lettura vi sia piaciuta. Se sì, potete mettere un like al video, iscrivervi al canale o condividere. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ciao!